Gabriele Muccino è nato a Roma nel 20 maggio 1967. Suo padre è Luigi Muccino, un dirigente che lavora per la RAI, una radio televisione italiana, e sua madre è Antonella Capuccio, una vecchia pittrice. Gabriele Muccino si iscrive alla Facoltà di Lettere della Sapienza, ma abbandona l'università presto per lavorare nel cinema. Muccino ha fatto alcuni documentari, scene breve e un cortometraggio che si chiama Io e Giulia per la RAI. Nel 1998 ha fatto il suo primo lungometraggio, Ecco Fatto, una commedia romantica che parla di Matteo, una ragazza che prova laurearsi e mantenere la relazione con la sua amante più vecchia. Questo film è stato mostrato al Festival di Torino, dove Muccino è diventato abbastanza famoso ed è stato nominato per il primo di miglior regista. Nel 1999, Muccino ha girato il suo secondo film, Come te e nessuno mai. Questo film è di Silvio e le sue difficoltà con la sua scuola, i suoi amici, la sua famiglia e il suo rapporto con la sua amica Valentina e il ragazzo geloso di Valentina. In questo film, il fratello di Gabriele Muccino, Silvio Muccino, ha recitato e poi ha recitato anche in altri film del Gabriele Muccino. Questo film è stato nominato per tanti premi, non solo in Italia, ma in tutta l'Europa. Ma il suo terzo film, L'Ultimo Bacio, gli ha conferito una fama internazionale. Questo film parla di un gruppo di uomini, o lupi, che cominciamo a allarmare con il matrimonio e la responsabilità. Un smash hit, il film ha vinto 5 Davi di Donatello, l'equivalente italiano del nostro Oscar. L'Ultimo Bacio è andato anche a Sundance Film Festival e grazie a questo film Muccino ha fatto un contratto con Miramax Studios per fare altri due film. Anche il suo e l'altro film, Ricordati di me, ha dato fama a Muccino. È un film che parla di una famiglia e la complessità nella sua vita. Ricordati di me, è stato nominato per 10 Davi di Donatello. Dopo questi film, Muccino ha provato a fare dei film negli Stati Uniti. Ma si è accorto che è molto difficile fare un film negli Stati Uniti. Perché mentre in Italia poteva facilmente trovare i suoi attori e le sue attrici preferiti, negli Stati Uniti Muccino doveva combattere con tanti agenti, esecutivi e impresari per mettersi in contatto con gli attori americani che voleva. Ma quando Will Smith ha visto l'ultimo bacio, voleva lavorare con Muccino. Grazie a questo, Muccino ha fatto il suo primo film americano con Will Smith, The Pursuit of Happiness, che è stato anche esso un smash hit. Questo film è la storia di successo di un venditore sfortunato e suo figlio. Con questo film, Muccino ha firmato il suo posto in Hollywood. Ma una domanda che noi ci siamo chiesti è se Muccino ha dovuto cambiare il suo stile particolare quando ha cominciato a lavorare negli Stati Uniti. Avendo trovato il suo lavoro grazie a Will Smith, e non da solo, c'è la possibilità che Muccino, al contrario di quello a cui era abituato in Italia, è stato controllato dallo studio, cioè che lo studio ha avuto maggiore influenza sul suo lavoro. Dopo Muccino ha fatto il suo secondo film americano, Seven Pounds, che parla di un uomo e la sua storia di correggere un spaglio, che ha fatto due anni fa per trovare redenzione. Questo film non ha avuto molto successo come i suoi altri film. Dopo il suo tempo negli Stati Uniti, Muccino è tornato in Italia per salvare la sua sanità mentale. E quando ha fatto il film Baciami Ancora, che è il seguito dell'ultimo bacio, e che parla della vita dei personaggi dieci anni dopo le cose che succedono nel primo film. Ora, Muccino sta lavorando con Keanu Reeves per fare un nuovo film di fantascienza. Come noi vediamo i ricordati di me, Muccino parla soprattutto dall'identità. I personaggi nei suoi film hanno un senso di realismo eterno, tra cui Muccino riesce ad esprimere delle cose più popolari e più controverse nella società dell'Ovest. La natura, la fortezza e la consistenza di sé. L'ultimo bacio è del perso dell'identità quando i personaggi trovano un'identità immobile e matura, che soffoca la spontaneità che definisce la vita adolescente. Ricordati di me, invece, parla della costruzione dell'identità attroverso i frammenti della passione giovanile. I personaggi devono fare i conti con tutti i sogni mancati della gioventù. Il film Pursuit of Happiness costruisce su questa idea. Will Smith cerca di mantenere l'identità nel mezzo di un assurdo furioso del caos. Tutto quello che lui ama gli viene tolto, e deve stanno abituarsi a vivere con il poco che gli rimane. Dietro questa crisi è la voglia di adempire la sua responsabilità di buon padre, ed è il combattere i suoi problemi mentre protegge il suo figlio, e soprattutto cerca di svolgere il suo ruolo proteggendo l'innocenza del ragazzino. Finalmente, la storia dell'identità finisce con il film Seven Pounds, in cui il protagonista intraprenda un viaggio per ritrovarla in modo crescente nel sacrificio emozionale di stesso. Mucino parla della produzione della gente con il disaccordo ed il tensione che usa nei suoi film. Mucino ha detto che l'infelicità dei caratteri, la loro vulnerabilità, la loro incapacità di accettare le loro vite, di percepire tra le loro vite, sono queste le cose che piacciono a lui. Si vede questo nei suoi film. I personaggi non sono puliti o raffinati, neanche sono continuati o placidi. Queste persone sono perse indietro delle tribolazioni, della vita, disordinate, spontanee e maldestre. Agiscono in un modo inconsistente che rifletta il ritmo caotico del subconscio, torturato. Nel stesso momento essi sono colti in una discontinuità assoluta, ma anche nella bella poesia dell'occhio onnipotente di un regista che si sta cercando una fondazione sicura. Ma mi scusi, ho dimenticato. I suoi film non sono autobiografici. Muccino ha un approccio unico. Usando un modo che assomiglia al teatro, gli attori praticano insieme per un mese, durante il quale fondano un rapporto genuino e rilassato. Gli attori si emedissimano nei loro roli. Questa è la ragione per cui i film di Muccino hanno un senso di realismo che connetta così bene con le nostre vite. Sono troppo attratto a questo mondo, a questo ambiente. Muccino ha detto. Intento se si è felice, si fa felice i suoi figli, si fa felice la sua moglie. La felicità è contagiosa, ma in felicità la tristezza è più contagiosa.